Ciao a tutti, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vado a rispondere ad alcune ragazze che mi hanno scritto su Instagram e su TikTok per dei consigli per entrare nel vasto mondo del genere fantasy. Lo sapete propriamente che io non leggo questo genere, sono molto più affine ai romanzi rosa e quindi ho spulciato tra le mie vecchie letture e sono riuscita comunque a trovare alcuni consigli da darvi. Quindi partiamo! Il genere fantasy, come un po' tutti i generi di lettura, ha delle varie sottocategorie per identificare meglio i libri. Sono andata a cercare appunto di darvi un paio di consigli per ogni sottocategoria. La prima che cito è la dark fantasy. In realtà di questa categoria non ho molto molto da cui parlarvi perché non è una categoria che mi appartiene. La dark fantasy associa, diciamo, elementi gotici a elementi horror e io propriamente l'horror l'ho sempre scartato dalle mie letture, quindi ho fatto molta molta fatica a trovare dei consigli. Ho spulciato qua e lì in internet e ho visto che molti hanno associato a questa sottocategoria un libro ovvero Sei di Corvi di Libardugo perché appunto al suo interno possono esserci delle somiglianze con elementi gotici e horror. Io in realtà questo libro ancora non l'ho letto ma ho visto la serie tv che era uscita su Netflix di cui appunto si prendeva spunto da vari libri di Libardugo e posso comunque consigliarvi, se vi piace il genere, quello un po' più dark, un po' più horror, questa ha alcuni elementi al suo interno. In poche parole racconta la storia di sei pericolosi fuorilegge che si uniscono, si mettono insieme perché hanno un obiettivo da raggiungere, hanno un colpo impossibile da fare, però ci sarà anche un migliaio di modi in cui il loro folle piano potrebbe andare male. Sicuramente è molto misteri, è molto anche avventuriero, quindi potrebbe essere una lettura molto piacevole per voi se vi piacciono comunque tanti tipi. Questo comunque può essere definito come un Yang Adult Romance Fantasy perché non c'è solo la parte dark, ma al suo interno abbiamo tante altre comunque sottocategorie. Però ne ho sentito parlare molto 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 bene, è una duologia quindi potrebbe essere molto facile entrare in questo genere attraverso questo libro. Seconda sottocategoria di cui anche qui ho letto veramente veramente poco è l'eroic fantasy. In questo caso abbiamo già una persona, un eroe, diciamo, che ha dei poteri o ha una particolare manualità e durante tutto il percorso, durante tutto il libro, lui metterà in atto questi suoi poteri per arrivare a un obiettivo. Quindi abbiamo già l'eroe che si mette in mostra, diciamo. E purtroppo di questo genere io non ho trovato nulla in libreria perché non ho mai letto nulla del genere. Ma invece la sottocategoria che amo moltissimo e di cui ho già letto molto è l'high fantasy. Al contrario dell'eroic fantasy, qui abbiamo una persona normalissima, come tutti quanti noi, che dopo determinate prove, determinati percorsi, diventa un eroe. Quindi durante tutto quanto il libro parte da persona normale che intraprende un percorso per diventare l'eroe finale. Ne ho letti vari di questo genere e il libro per eccellenza è sicuramente Il Signore degli Anelli. Però non mi sono sentita di consigliarvi questo libro per il semplice fatto che è veramente, secondo me, a parte essere tre libri molto sostanziosi, forse anche una lettura da fare dopo che si è entrati bene nel genere. È sicuramente una lettura bellissima, fantastica, meravigliosa, ti apre un mondo incredibile, ma è anche comunque, secondo me, molto molto pesante come lettura. Quindi vi consiglio qualche libro hype fantasy un po' più leggero, come per esempio Feira, la protagonista della corte di rose spine della trilogia di Sarah J. Maas. Feira la vediamo all'inizio come una semplice ragazza che va a caccia, che aiuta e sostiene la propria famiglia come riesce a arrivare, diciamo, in un ambiente non consono al suo, perché la principale anche caratteristica dell'hype fantasy è che sono ambientati in luoghi veramente fantastici, in luoghi creati ad hoc, creati veramente con grandissima fantasia, come lo è poi la corte di primavera, la corte della notte, e quindi l'ambientazione anche in questo libro è totalmente fantastica. In questo caso, appunto, Feira verrà presa da re Tamlin, il re della corte di primavera, e portata qui per un riscatto, diciamo, no? E qui lei si dovrà ambientare e soprattutto durante la trilogia dovrà affrontare varie prove, varie situazioni particolarmente difficili. Feira combatterà, stringerà le unghie, stringerà i denti, si umilierà anche in alcune situazioni per poi diventare l'eroina finale, perché questo è un po' la caratteristica dell'hype fantasy. Parte da ragazza semplice e arriva ad eroina. Questo libro, forse voi lo sapete già, ho fatto un po' fatica di ingranare all'inizio, perché la prima metà del libro è un po' noiosa, è un po' lenta, non mi appassionava moltissimo. Superata poi quella parte, ho divorato gli altri due veramente in poco tempo, soprattutto il secondo, che è il mio preferito, e dove facciamo la conoscenza del meraviglioso Rizand. Ma ovviamente non posso farvi spoiler in più, perché se la leggete, lo scoprirete voi da soli. Comunque ve lo consiglio, è una trilogia molto bella, mi è piaciuta tantissimo, ci sono anche love story, quindi è un po' un mashup, però like fantasy è la sottocategoria principale di questa storia. Altra sottocategoria di genere che mi piace moltissimo e adoro è la paranormal fantasy. In questo caso abbiamo un mashup tra storia d'amore, quindi romanzo rosa, e romanzo fantasy. Diciamo che per me è il connubio perfetto, perché rientra un po' nella mia comfort zone. E un libro per eccellenza, mettiamola in questo modo, è sicuramente la serie di Twilight, perché questo connubio c'è alla grande storia d'amore tra Edward e Bella e elemento fantastico del vampirismo di Edward, quindi mashup perfetto. Vi voglio consigliare però questo romanzo qui, che in realtà è il primo di una tetralogia di Maggie Stivwater, Stivwater, non so mai come si pronuncia, comunque Shiver, il primo della saga dei lupi di Mercy Falls. In questo caso abbiamo un'ipotetica storia d'amore con l'elemento fantasy, che sono i lupi. Grace e Sam si percepiscono, si sentono da sempre, anche senza essersi mai visti. In realtà, Grace, diciamo che, sorveglia un gruppo di lupi che spesso vede all'imitare del bosco sotto casa sua. Sam è un lupo d'inverno e un uomo d'estate. Tutto cambia però durante una notte d'estate, puntini, puntini, puntini. Ovviamente sarà a voi scoprire. Io ho letto soltanto il primo di questa tetralogia e me sto pentendo amaramente perché mi era piaciuto moltissimo. L'avevo letto dopo Twilight perché era un po' presa dal filone Jacob, lupi mannari e diciamo che questo mi era piaciuto molto. Forse un po' lentino, però diciamo che ha tutte le caratteristiche per essere un'ottima storia, un'ottima avventura paranormale. Passiamo invece ad una categoria di cui non ho mai preso molto in considerazione ma che in realtà ho letto alcune storie che è la Shines Fantasy, Shines Fantasy, diciamo che lega gli elementi fantastici, diciamo che lega gli elementi fantasy a elementi fantascientifici. Non amo molto il fantascientifico però mi sono resa conto di aver letto alcune cose come per esempio Red, la trilogia delle gemme di Kirsten Gheer. Qui l'elemento fantascientifico è il viaggio nel tempo perché la nostra protagonista Gwendoline che vive in un antico palazzo in centro a Londra con la sua famiglia tutto da invidiare è stata la prescelta per fare questi viaggi nel tempo, nel passato, per andare a capire cosa poi ha fatto evolvere alcune situazioni nel futuro ma insieme a lei andrà anche Gideon questo altro ragazzo che però è stato addestrato per farlo e insieme inizieranno questi viaggi nel passato ma dovranno stare molto molto attenti a non modificare o cambiare alcune cose perché poi andranno a rovinare futuro e presente. una bella storia questo è anche diciamo un young adult romance perché c'è anche una punta di storia d'amore però l'elemento fantascientifico dei viaggi nel tempo me lo fa sicuramente mettere in questa categoria l'ho letto molto volentieri ci sono anche dei film però non ve li consiglio è una storia che si legge molto veloce molto frizzante molto misteriosa e anche molto avventuriera quindi questo sicuramente fa per voi se state per iniziare un po' ad approcciarvi a questo mondo fantasy ne ho anche un altro però legato a questa categoria ed è la serie delle cronache lunari di Marissa Meyer prendo il primo Cinder come esempio perché dico che rientra in questa categoria? perché i nostri protagonisti in questo caso Cinder sono dei cyborg quindi hanno una parte del corpo bionica e questo rientra sicuramente nella fantascienza è una specie di retelling di Cenerentola di Cinderella dove abbiamo la nostra Cinder che vive con la matrigna e le sorellastre e sopporta le vessazioni che queste le fanno lavora in un mercato per raccimolare qualche soldo per la sua sopravvivenza fintanto che un giorno non incontra il principe terrà però nascosta questa sua parte del corpo perché ha un piede cyborg un piede bionico perché se ne vergogna ha una storia che a me è piaciuta molto mi ha divertito è un retelling costruito e strutturato bene ma non l'ho mai continuata e anche di questo un po' mi pento perché c'erano veramente delle ottime premesse per essere una serie molto 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 interessante so che quest'anno la Oscar Vault dovrebbe pubblicare un Draghi con i 3-4 volumi di questa serie quindi magari con questa nuova uscita potrei ricominciare la serie però ve la consiglio passiamo all'ultima sottocategoria del genere fantasy che è l'urban fantasy in questo caso abbiamo delle delle storie ambientate nella vita reale in città vere e proprie sì con elementi fantastici perché abbiamo dei protagonisti che hanno magari dei poteri però vivono all'interno di città vere e proprie in un ambiente reale quindi un esempio può essere benissimo la serie di Cassandra Clare Shadowhunters lo so che sono veramente tanti libri perché Cassandra Clare ne ha scritti veramente moltissimi sui Shadowhunters si vede che aveva molte cose da raccontare e quindi forse iniziare a approcciarsi a questo genere sapendo che ci sono un sacco di libri forse un po' spaventa però sono libri molto scorrevoli molto facili di lettura frizzanti molto avventurieri quindi vi appassionerete e li continuerete a leggere senza rendervene conto si racconta la storia di Clary una giovane ragazza che a New York una sera fuori da un club vede dei cacciatori degli uomini combattere con degli strani tatuaggi nel corpo e però si accorge che non c'è neanche una goccia di sangue sparsa e in realtà lei non potrebbe e non dovrebbe vederli quindi c'è qualcosa che non va entrerà anche lei a far parte appunto dei Shadowhunters quindi inizierà l'allenamento inizierà a scoprire anche molte cose del suo passato molti misteri e si legherà soprattutto ad uno di loro che è Jace quindi diciamo che sì è un urban fantasy ma anche con varie storie d'amore nel mentre quindi diciamo che ci sono varie sottocategorie all'interno di ogni libro c'è anche la serie tv che ho visto e mi è piaciuta moltissimo comunque consiglio sempre prima la lettura dei libri altro però libro che possiamo mettere in questa sottocategoria e che diciamo che è un libro anche middle grade famosissimo nel genere fantasy è Percy Jackson e l'idea dell'Olimpo di Rick Riordan anche di Percy Jackson abbiamo mille libri mille storie però sono tutte che a mio avviso vale la pena leggere in questo caso abbiamo Percy che è un giovane ragazzo che scopre di avere dei poteri e direttamente dagli dei dell'Olimpo diciamo e vive comunque in una città reale con amici reali va a scuola quindi è a tutti gli effetti un urban fantasy anche di questo esistono film però vi consiglio sempre la lettura dei libri perché sono molto più appassionanti e sicuramente scoprirete dettagli maggiori rispetto al film dove sicuramente tagliano qua e là quindi anche questo libro ve lo straconsiglio spero veramente di essere stata utile per questi consigli e di avervi magari chiarito un po' le idee in riguardo alle varie sottocategorie perché poi appunto ognuno sceglie verso quella che propende per la maggiore se avete altri consigli ovviamente scrivetemi lì qua sotto perché così li leggiamo tutti quanti e abbiamo sicuramente uno spettro più ampio poi per andare a scegliere quale libro fa per noi se vi è piaciuto il video lasciatemi un like un pollice in su iscrivetevi al canale attivate il campanellino così non vi perderete i prossimi video qua sotto trovate i miei social TikTok Instagram Facebook e via dicendo venite a seguirmi anche lì perché sono tornata più attiva che mai niente un bacio grande a tutti e ci vediamo presto ciao ciao